Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Quest'oggi ragazzi siamo qua tornati su StumbleGuys per fare finalmente un contenuto ultra richiesto Ovvero una lobby di full skin speciale Vediamo se ce la faremo assieme alla mia chat di Twitch Intanto io vado giustamente a impostarla perché se no insomma ci manca solo che me la vado a dimenticare io Io metterei questa, il capitano Gold Ovviamente oggi sarà dura vincere Proviamoci, proviamo Abbiamo intanto i tre giri gratis che quelli non si vanno a buttare sempre e comunque Faremo le classiche, poi vediamo, quattro partite direi Se poi già scappassi anche una win per quel che mi riguarda non sarebbe male Comunque cinque gemme per partire, classico Poi ci darà uno StumbleCoin oppure tre La prassi sempre quella è Andiamo vediamo se ce l'ho preso Me ne dà tre Fidati, guarda tre tre Eccoli tre StumbleCoin Beccati questi tre E infine avremo una bella skin comune, doppione oppure un StumbleCoin Direi che a grandi regole andrà a finire così A grandi linee che ha grandi regole Andiamo un po' Skin, vabbè rara doppione No, dieci gemme, ho sbagliato qualcosa Ho fatto male i miei conti Comunque diamo l'ok E vediamo un po' se riusciamo a fare questo contenuto E dunque raga, siamo riusciti a riempire la lobby Adesso giochiamo e vediamo un po' se tutti avranno sta skin speciale Vediamo un po', partiamo da un bel livello content Spero di non creparci subito Sennò come se ne potrebbe mai andare a dire Attenzione, vediamo un po' subito le skin Quali sono? Le quelle, quelle, quelle Mnaggia, c'è uno che ha scammato Giusto Beh, a parte uno, però tutti hanno la speciale Pazzesca sta cosa raga Beh, diciamo che il content, ecco Il content c'è Ma già qua partono i primi scami Vediamo se un po' i nostri amici con la speciale Sanno come funziona la gravità A quanto pare sì In realtà non è uno Sono più di uno Non so perché certa gente non ha la speciale Vabbè, comunque Fino a quando sono tre su trentadue Si può anche accettare Ovviamente ragazzi La perfezione Non si poteva arrivare Qua diciamo che comunque La situa è un po' quella che è Cioè Ragazzi Riusciamo a passare Mi sa che qua qualcosa Andrà un po' storto E anche tanto Ovviamente questa skin Del Fireman Ash Cioè il pompiere È speciale Perché dalla serie di Istanbul Kaiser Core Abbiamo visto che quella Qua siamo passati Meno male Non so se ce la faremo Per il timer Tanto abbiamo anche una sabbia Era quando Riaprimo il link in descrizione Per venire su Twitch Già lo sapete E attenzione Parte del tryharding Incredibile Proprio noi Ci buttiamo qua Ci buttiamo l'attenzione Che proprio abbiamo I tempi che sono lì lì Però in quanti Ma in realtà Non riusciamo neanche A passare in 16 Beh vediamo poi che succede Soprattutto bisogna vedere Se arriviamo in tempo Al traguardo Perché potrebbe anche Arrivare questo scam Quindi attenzione Per ora non è passato nessuno Vai Raxor Core Naggia Vai vai Veloce 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 C'ho una paura Dai perché è sto scam Però Ci manca solo che Da qua davanti Non riesco a passare Ce la possiamo fare Riga forse Ok ce l'abbiamo Credo fatta Veloce Raxor Muoviti E let's go Procediamo Abbiamo ora Ok meno male Niente livello di squadra Già per me questa È un'enorme vittoria Ma vediamo Siamo passati In realtà Siamo in 16 Credo di sì Neanche l'ho notato prima Comunque vabbè Siamo tutti speciali Tranne uno che ha scammato Ed è anzi in due Cioè i due davanti Sono quelli senza speciale È giusto ragazzi Tutto nella norma Beh comunque dopo ci riproviamo Speriamo di fare 32 su 32 Full speciali Ma quello non dipende da me Bisogna sperare che la gente Non scammi Sbagliando scherzo Oh ma aspettate di bullizzarmi No ma questa non la vinceremo mai Cioè vi rendete conto Che anche se stia arreccando Mi bullizzano Non è che mi lascia La vittoria per il content No mi bullizzano Non so neanche se passo Però vediamo Ci proviamo fino alla fine Forse in realtà riesco a passare Vai Raxor muoviti Fai di questo E passi pure Let's go Beh almeno siamo in finale Non è male Oh finale su super slide Non male riga Vediamo un po' come Oh questo qua è un finale Comunque full speciali Molto interessante la situa Se riuscissi a vincerla Non vi nasconderei che la questione sarebbe Molto molto interessante Ma la vedo alquanto ardua Però attenzione Ne abbiamo soltanto due davanti Dobbiamo sperare che i loro due Sbaglino qualcosa Tanto qua se tizza tutto Fai di questo Qua te No non mi ha saltato Naccia Eh niente non mi ha preso il reset E niente ci proviamo Ma arrivati a questo punto Direi che è impossibile A meno che non c'è lo scam di massa Ma credo che ho adesso Scam di Sì vabbè c'ha uno Ragazzi questa è veramente Ansia da performance È giusto Diamo un po' che skin speciale ha vinto Ha vinto il buon RXR Manux Col draghetto rosso Ma adesso riproviamo A fare davvero full speciali Stavolta Ok rica abbiamo di nuovo formato il gruppo Forse stavolta Chissà saranno tutti con la speciale Diamo un po' Ho già visto un bel po' di speciali Ma saranno tutti Tutti con la speciale Stavolta C'è qualche scam No c'è qualche scam Ancora E niente rica Ci sono anche più di prima No vabbè pazzesco E niente Rica che ve ne posso andare a dire io C'è il bello che Magari certa gente mi invia Lo screenshot della speciale E poi non so se scammano Oppure se rubano Screen ad altri Boh E vabbè ste cose Non dipendono da me Ma se ci sono gli scammoni Noi che ci possiamo fare Vedi davanti abbiamo Raxor Scammer Lui però non è uno scammer Naggia Beh me la sono meritata a ste motte Lui però non è uno scammer Perché c'ha la skin giusta Comunque per ora siamo passati Procediamo Ai 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 Se prima è andata come è andata Al primo round Non voglio immaginare al secondo Però vediamo Vabbè le skin speciali C'è anzi quelle non speciali Hanno scammato tutte Tranne uno Ma questo qua che ha l'ingero Lo stesso di prima Ah bro mi sai come hai capito E niente C'è qualche problema Di comunicazione Ma ad ogni modo Quella è leggendaria Non speciale Ragazzi vi giuro Se vi volete spostare indietro Oh perfetto In realtà è andata anche abbastanza bene Rispetto a prima C'è stata un po' più di rapidità Molto interessante la questione Poi vediamo se riusciamo A passare Già la vedo un po' ardua La questione Però almeno riusciamo A tagliare un attimino Passiamo di qua E passiamo di qua E qua abbiamo recuperato Un po' di posizione Quindi non è male la questione Forse a destra ci sarà un po' di scam Non Sì in realtà uno ha scammato Let's go Qua dobbiamo aspettare che si alzi Ah già 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 Dove andiamo Dove si alza A sinistra Veloce Luxor Muoviti Let's go Si va ancora in finale Molto molto clean la questione E questa volta Speriamo di vincere Dai Finale su pain splash Comunque Che a noi sta bene Dobbiamo stare molto attenti Alla questione Emote Sempre e comunque Però vediamo un po' che succede Qua sicuramente Potrebbe arrivare la prima emotata O forse no Siamo in testa Ecco che ti pareva Mannaggia Beh comunque non abbiamo perso Troppo tempo Qua chiaramente possiamo andare avanti Con l'emota Speriamo di non essere Bullizzati malamente Non male per ora La questione No ho sbagliato E che ce lo possiamo ancora fare Forse coraggio Buttate là Buttate qua Emotina tatti No come non Ma co E niente Riga Qua c'è un po' di Pay to scam Ma è giusto ragazzi Una lobby di full Con l'emoticon Che c'è full speciale Con l'emoticon Un po' un delirio qua Ha vinto VRGG Adesso ci riproviamo E dai Ok riga Siamo di nuovo full Terza partita Vediamo un po' A sto giro E' un po' lunga la questione Ma con calma Si fa ragazzi E dunque Partiamo Dumble stumble Vediamo un po' Questa volta C'è qualche scammone O Si Beh Classico Tra l'altro Perché 4 Dove sono finiti 4 davanti 32 su 32 Comunque niente Riga A quanto pare Fare full speciali E' impossibile Io più che dire Di non entrare Se non ce l'hanno Non so che dire Io per fare sta cosa Ho fatto una selezione Io proprio da Instagram Ho chiesto lo screenshot Della speciale Tutto Quindi non è che ho dato il codice Così a caso Quindi io non so perché ci siano tutti Sti scammoni Non capisco proprio Ma è giusto ragazzi È giusto così Comunque qua siamo passati Pazzesco Procediamo Spingo round Vediamo un po' Che è full speciali Ora no C'abbiamo il robottino Vediamo 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 Per ora direi che la questione È molto interessante Ci buttiamo qua C'è Gollosissimo ragazzi Proprio così No che è sto sbocco di mod Per ora la situa è molto buona Dunque qua È complicato vincere Abbiamo ancora due partite Inclusa questa Vediamo se ci scappa Però vi giuro Che sarà molto difficile Che altro sarebbe content Magari avere una survival Come block dash Già di forse Potrebbe essere più interessante In finale Ma ora vediamo Finale sull'Avaland Ecco non era proprio questa La finale che speravo Però almeno siamo full speciali E qua Si sarà un po' di bullismo Già lo sapete Sarò io il primo a crepare Con un bel pugno Stai a vedere Stai a vedere Oppure ragazzi Se siete uomini Non usate le mot Vediamo un po' Ragazzi vi giuro che io non le uso Se non le usate neanche voi Siete degli eroi Facciamo il content Quello corposo Interessante Dai 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 Ce la potete fare a non usarla Credo in voi Tanto ci muoio da un po' Ecco Ecco Come non detto Come non detto ragazzi Io ci ho provato Tutti i back E' dato un bel punnaggio L'ho mancato E niente E beh comunque per ora siamo Per ora appunto Per ora Forse l'hanno capito Che non devono usare le mot Mi sa di no E niente E' più difficile del previsto Vi giuro No perché loro mi sentono Sono in live Quindi non è che dici Che ne sanno loro Lo sanno però Scammano lo stesso Non so che dirvi Qua ti prego non apparire proprio adesso Grazie mille E niente E vabbè grazie mille Cioè ma ragazzi Ma ci rendiamo conto Che qua non si può fare un contenuto Che la gente scamma Boh Comunque vediamo chi vince a sto punto Guarda Claxor mi ha buttato da sotto Ma visto che è l'unico Che la tagga è RxR Spero che vinca lui Anche se non te lo meriteresti Infatti buttate da sotto Se sei un uomo Niente Non si butta Finale tra Mav e Claxor Attenzione Su quel blocchettino lì Ormai il game è finito Ha chiuso meglio le motta Attenzione C'è un po' di scam Alla fine credo che abbia vinto Mav Adesso raga Ci facciamo all'ultima E vediamo Se riusciamo a chiudere Veramente di full speciali Ma per spoiler Non ce lo faremo Ce lo sapete E dunque Andiamo con l'ultima lobby Sarà questa la volta buona Ma come avete già capito Da poc'anzi Io credo di no Comunque si parte Intanto da questo livellino Un bel pivot push Attenzione Vediamo 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 E niente Ce ne sono due Non speciali Tre anzi Ragazzi Anzi forse quattro anche Vabbè E' stata più complicata Del previsto Fare sta challenge Non è andata Effettivamente a buon fine Qualche scammone c'è stato Però diciamo che comunque Il content c'è stato Quello che conta E' quello lì Se poi riuscissimo a fare Una vittorina per chiudere Sarebbe la cosa più bella del mondo Adesso ci proviamo subito Sempre se riusciamo a qualificarci Ma c'è un buidello Qua che spam di emoti incredibile Però per ora ci siamo Non mi sembra così terribile La situazione Qua abbiamo preso al pelo La via Ci buttiamo di sotto Ti prego non mi colpire a martello Grazie mille No credo che ci siamo Dai non dovrei essere così indietro Ed effettivamente No no veloce veloce Ok let's go Non sono mai usciti I livelli di squadra Ovviamente Ti pare che non esce Almeno adesso Un livello di squadra Direi che la cosa è abbastanza palese E infatti lo è Ma poi raga ce lo giochiamo Non ve lo taglio È tanto che non vi metto Un livello di squadra completo Quindi godiamocelo Facciamo il nostro Anche perché magari qualcuno È interessato a sapere Qual è la strategia vincente qua La strategia per quel che mi riguarda È andare nello spawn avversario Senza conquistare per ora Proprio diretti nello spawn E cerchiamo di dar fastidio agli altri Mentre i miei compagni Cercano di conquistare Almeno questo dovrebbe essere il piano Piano che chissà Se riusciremo a fare Più che altro almeno distrarre Quello è l'importante Se poi i nostri No in realtà Anche i nostri compagni Dovrebbero conquistare Quindi sì Sono entrambi importanti le cose Ma comunque per ora Siamo qua Si parcola ma non si molla C'è un po' di buidello Un po' di scam Un po' di robe mistiche Ma attenzione Che noi non molliamo mai nella vita Se stiamo distraendo abbastanza bene Perché ce l'hanno tutti tipo con me Ed è giusto così Però stiamo perdendo Non so come sia possibile 7 a 4 Ah ragazzi Potreste andare a conquistare qualche zona 7 a 3 Non so come sia possibile Ma è giusto raga Forse c'è qualcuno nel nostro spawn pure Qua comunque vediamo se riusciamo 7 a 5 per ora 6 a 5 Dai che stai recuperando Forza e coraggio Siamo in testa Si è pari Dere che credo in voi Con queste skin speciali contenutistiche Ma non conquistate per favore Io non so come sia possibile Non sono mai morto Pazzesca sta cosa Beh tra poco arriverà lo scam E' palese Tu buttate di sotto per favore Nudge Becate sto pugnetto Ancora si parcola ma non si molla Siamo in testa Attenzione mancano 40 secondi Dai che forse riusciamo a scrivere la storia In sti livelli di squadra 6 a 4 Va benissimo Buttatevi tutto di sotto Io non sono mai morto Non so veramente come sia possibile Lo qua riesco pure a conquistare Non credo però Continuiamo sempre col nostro intento Perdere tempo sempre e comunque Bravo Fili state fermo Meglio così 7 a 3 Manca in 10 secondi Mi sa che alla fine La nostra strategia da perditori di tempo Ha portato dei grandissimi risultati Molto interessante la questione Si va ancora in finale Tutti i 4 game in finale E' veramente pazzesco E ora cerchiamo di vincerlo Dai dacci un bel O laser O block dash Oddio abbiamo overhander Che è una mappettina Molto content in realtà Già lo sapete Solo che c'è un po' di paura Ma adesso vediamo Qua siamo full speciali In finale andiamo sempre full speciali Coincidenze Chi lo sa Qua direi che ci buttiamo in questo modo Emotina tattica Purtroppo usata male Però si mi in testa Ragazzi Non mi ha saltato Ho spammato La barra spaziatrice Non mi ha saltato Ragazzi Che scam No vabbè Non si può perdere Però per ste cose Ma che è successo Vabbè niente Era il nostro Mentre L'avevano in testa Eravano tutto Però no Non sa da fare Vabbè comunque La nostra challenge L'abbiamo fatta Ha vinto il game Il signore RxR Marra Forse ha vinto anche Quella di prima La prima può essere Non lo so Peccato Ad ogni modo Io spero che questo contenuto Vi sia piaciuto Anche se non è stato Completato al 100% Qualche scammone Ci doveva essere Per il resto Un bel like Iscrizione Campanellina Tattica Tattica Noi come sempre Conputati A A A